E' il nuovo procuratore generale di Palermo, un magistrato che la mafia l'ha combattuta guardandole in faccia. L'Iasava, procuratore generale di Caltanisset, da oggi la prima magistrato donna ad assumere il ruolo al Tribunale di Palermo. E' stata votata all'unanimità dal plenum del CSM. Un magistrato che è stata PM di grandi processi, ha chiuso in appello i processi sulle stragi del 92, e celeberrimo oramai la sua frase «Non smetteremo mai di cercare la verità fino in fondo». 15 anni alla DDA di Palermo, chiamata da Giancarlo Caselli, 10 anni a Caltanissetta come aggiunto, poi facente funzioni ed infine dal 2018 procuratore generale. Schiva, gentile, disponibile, intransigente, studiosissima, umana. Queste le caratteristiche di un magistrato che è diventata punto di riferimento per i giovani PM della procura nissena. Un magistrato che ha lasciato un segno al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta e porterà con sé quella parte nissena che è diventata la sua seconda città.